Grazie al Ministro Boccia. Allora, verso la fase 2 c'è il decreto del Ministro della Salute con gli indicatori per valutare l'andamento dell'epidemia. Giuseppe Rizzo. La fase 2 non sarà un liberi tutti. Potremo far visita a un parente o tornare a casa se siamo rimasti bloccati in un'altra regione. Ma in mancanza di una cura restano fondamentali i comportamenti responsabili. Se il virus riconquista terreno si rischia un nuovo lockdown. Il Ministro della Salute Speranza ha fissato le regole per tenere sotto controllo l'andamento dell'epidemia. Sarà come dotare ogni regione di una squadra di sentinelle che tengono d'occhio il virus. Se in una certa area ricomincia a circolare in modo preoccupante lanciano un allarme che attiva procedure d'urgenza. Le sentinelle sono in realtà algoritmi, dati incrociati che ci danno l'andamento del contagio e dicono come e dove intervenire. Tre, gli indicatori. Monitoraggio dei casi, cioè la capacità di ogni regione di avere sotto controllo la situazione dei contagi, ad esempio nell'RSA. Il secondo è la capacità di accertamento diagnostico, territorio per territorio, il numero di tamponi che si è in grado di eseguire, il personale a disposizione, il tempo che trascorre tra i primi sintomi e la diagnosi. Infine il fattore R con 0. Deve mantenersi sotto l'1, cioè meno di un contagio per ogni malato. E i posti occupati nelle terapie intensive devono essere meno del 30%. L'incrocio tra questi dati ci dà l'indice di rischio di una regione o anche di un solo comune. Se è molto alto, solo lì si ritorna al lockdown. Siamo molto lontani dall'immunità di greggio edificio.